Un giorno si scopre il braccio che usa meno e si accomodi pure sulla poltrona. Tra 28 giorni ritorna a fare la seconda dose come da promemoria rilasciato. Nuova fase con le vaccinazioni in provincia di Pistoia dopo le prime 2000 con il prodotto della Pfizer sono iniziate quelle con il prodotto dell'americana Moderna. Destinatari personali del 118 e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Questo è il personale che tutti i giorni ha contatto con pazienti Covid o sospetti Covid peraltro per noi sono tutti sospetti Covid nel momento in cui andiamo a fare il soccorso. Questo credo sia un atto dovuto proprio anche per questo personale che è in prima linea tutti i giorni e che effettua soccorsi in Toscana. Quindi credo sia un ulteriore anche, non solo atto dovuto, ma anche un ulteriore passo avanti nel stoppare la diffusione del Covid. L'obiettivo, se non ci saranno problemi con le forniture, è arrivare a vaccinare 14.000 operatori. La tempistica di questa fase? Questo dipende molto dalla disponibilità dei vaccini. Noi più o meno pensiamo di chiudere il tutto in meno di un mese, naturalmente con la metodica che abbiamo ora. Quindi una capacità vaccinale di circa 600-700 al giorno su tutta la Toscana. Abbiamo anche in animo di aumentare, di aumentare anche le postazioni di erogazione della vaccinazione. Quindi arrivare più o meno almeno a 800-900 al giorno, quindi in una situazione di questo genere in una quindicina di giorni, se andiamo a questo 20 giorni al massimo dovremmo terminare.